Sì Ma voi non siete i fratelli? Sì Voi siete i fratelli cecchini? No Siamo mille Fratelli mille Buongiorno 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 E poi vada a Luciana a comprare le pesche noci Noci Perché mi chiami? Sta male Marcello? Ma Marcello è il mio cucino biscucino? Ma male male? Terminato! Marcello? Marcello? Ua lo faccio! Allora? Ma vabbè! Perché? Oh Marcello! Marcello! Sì! 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 Sì!